Rimani qui con noi perché sei arrivata seconda nel trofeo Banca Carige e arrivata terza una nuotatrice che ha già portato a casa risultati importanti a livello giovanile è Imperiese, classe 1996, Alice Brioglio Eccola qua, un'altra... Questa è una nuotatrice come te, quindi insomma... Ma tu fino a che età hai fatto nuoto, scusami? L'ho fatto fino a dieci, poi ho dovuto smettere, ho iniziato un'altra disciplina Iniziando a nove? Come? Iniziando a nove? No, hai fatto una nuota in mezzo Iniziando a otto, sette e mezza otto E mi aveva detto che era una grande nuotatrice Però a livelli agonistici, devo dire, non era facile Stile? Come si dice qua? Quello lì, dorso E spalla in spagnolo Paola Cavallino, spalla? Spalla, vero? Stile e spalla, perfetto, va bene Patrizia, mi hai fatto fare una figuraccia Potevamo dire che facevi il pattinaggio e uscivamo meglio No, poi ho fatto taekwondo però Hai fatto taekwondo? Sì, cintura nera a primo dato Ci sono le ragazze del taekwondo in sala? Eccoli! Ha fatto taekwondo, poi dopo ti metto alla prova con una delle... Perché se non sbaglio c'è una premiata Vediamo, vediamo Allora, a premiare il trofeo Banca Cari Grazie, grande amico di Stelle nello sport Vorrei che fossi tu a consegnare i due Oscar a queste splendide atlete A me devo dire che Banca Cari da sempre ha scelto il trofeo green Il trofeo microfono Trofeo microfono Dedicato agli under 14 Un investimento sui giovani Lo avete fatto da anni Devo dire che ogni anno è emozionante Perché in questa categoria troviamo veramente dei giovanissimi Crea dei problemi vedere l'agilità di queste ragazze E ripensare quando avevamo questi anni Sì, non ti rivedevi agile uguale Io neppure E comunque, indubbiamente, i ragazzi rappresentano il futuro di tutte le società E noi abbiamo scelto da sempre di sostenere, di premiare questo settore Complimenti, crescete con questo spirito E auguri per ogni successo futuro Allora, a questo punto Noi abbiamo il vincitore del trofeo carige Ovvero i green, gli under 14 Lo scopriremo tra poco Fa anche lui nuoto E allora abbiamo deciso di invitare quella che è la vera icona del nuoto a Genova e in Liguria Paola Cavallini Eccola qua Buonasera Paola Buonasera Allora, ci aiuterai a consegnare il trofeo carige 2009 a un nuotatore poliedrico Se non sbaglio fa un po' di farfalla anche come te Ma poi delfino, sì, dorso, stile libro, fa di tutto Insomma, è veramente giovanissimo ma già assolutamente capace in tutti gli stili Scopriamo chi è in questo filmato Scopriamo chi è in questo filmato 3.370 voti per la promessa del Genova nuoto Luca Pagano Eccolo Eccolo qua Paola Gli facciamo un grosso augurio in questo modo Consegnandogli tu il riconoscimento Il nostro scarmente Antonello Amato Gli va ad assegnare l'attestato Facciamo una foto tutti e tre insieme Venite Vieni Luca, vieni Vieni in mezzo Alice e Alice Ai lati Foto ricordo per questa categoria il trofeo green che davvero ci regala grandi emozioni Due notatori e una ginnasta Insomma, l'augurio è di rivedervi qui tra quattro anni come è successo con Silvia Salis E un certo Niccolo Canepa Che abbiamo premiato cinque anni fa e che quest'anno lo salutiamo E Aleman sta facendo le prove in questo momento Corre esattamente in MotoGP Niente male Complimenti ragazzi Mi lasciamo andare Grazie ad Antonello Amato Paola tu rimani Direi di sì Tu rimani con noi Sì sì Ti teniamo qua Ti teniamo qua Perché a questo punto Per quel che riguarda il nuoto Abbiamo anche una società da premiare È la società proprio di Luca Pagano Del presidente Luigi Gardella Lo invitiamo qui con noi Eccolo Ci guardiamo anche qualche bella immagine di questo storico sodalizio genovese Grazie a tutti Grazie a tutti. Immagini bellissime del Nico Sapio, la storica manifestazione organizzata dal Genova Nuoto e da Luigi Gardella. Premia Carlo Nicali, presidente del CONI Genova.